Tutto secondo quanto auspicato. In Serie C il Messina è passato sul campo della Vibonese ultima in classifica. Tre punti pesantissimi ottenuti fuori casa che permettono alla Cerre di allontanarsi dalla zona calda. Domenica prossima ospiterà la Juve Stabia con l'obiettivo di proseguire la scia e raggiungere mette più tranquille. Notte fonda per il Palermo. La Virtus Francavilla si è rivelata più ostica del solito e può dire la sua in zona promozione. rinviato il confronto tra Vellino e Catania con altri confronti. In Serie D il Sant'Agata con il Piglio delle Grandi è passato a Castrovillari e fa davvero impressione. In positivo si intende vedere la squadra tirrenica al sesto posto assoluto. Domenica prossima in casa contro il Giarre potrebbe arrivare l'ennesima vittoria e dunque un altro passo in avanti in classifica. A questo punto è lecito pensare che nessuno parli più di raggiungere la quota salvezza visto che adesso le mette da raggiungere solo ben altre. Anche l'eccellenza regala alla provincia di Messina risultati confortanti. L'Igea ha battuto il Taormina, la Nebros ha piegato il Via Grande, Roboante il 5-1 della Ionica contro il Real Siracusa a Belvedere, Stratosferico il 10-3 del Siracusa sul fanalino di coda, Atletico-Catania. Domenica prossima ci sarà il derby Ionico tra Taormina e Ionica e riposerà l'Igea. In promozione la Torrenovese è passata sul campo della Messana e la Stefanese in casa contro il Milazzo. Via Libera della Sant'Angiolese sul campo della Promende, un risultato forse isperato alla vigilia e per questo dà valore alla vittoria della squadra di Sant'Angelo di Brolo per una classifica parziale che vede appagliate a 35 punti Torrenovese, Milazzo e Roccaquedolcese. La Stefanese ha ottenuto i tre punti spera di risalire dal baratro nella speranza che Gioiosa, Valdinisia e Sinagra non ne ottengano tra rinvii e posticipi. In prima categoria a Gironedile tre squadre di vertice hanno vinto. Il Mistretta è passato a Tortorici, la nuova rinascita ha battuto la Nasitana e il San Fratello ha piegato il Rosmarino. In basso la Luntina che non ti aspetti ha vinto in esterno a Furnari, la Futura ottiene un punto contro il Galati, passeggia l'Orlandina sulla Sfarandina. Nel Gironè l'Aquila vince facile contro la Juvenilia e visti i pareggi di Melas e Valle del Mela passa al comando da sola. Importante vittoria in chiave salvezza del Villafranca sulla Folgore Milazzo.